Le regioni tendono a praticare politiche del lavoro quale più quale meno di tipo autoreferenziale mentre invece l'intenzione del legislatore è stata quella di mettere soprattutto nelle mani della persona interessata a trovare un posto di lavoro la scelta del servizio pubblico privato o privato sociale al quale rivolgersi. L'idea cioè di dotare qualunque disoccupato o inoccupato di un voucher, di un buono, spendibile presso il soggetto che egli liberamente sceglie, il soggetto capace cioè di erogare servizi di incontro domanda offerta ma anche di formazione. Pensammo allora si trattasse di spostare il baricentro della politica attiva dalla offerta alla domanda e in questo modo anche creare un mercato efficiente dei servizi erogati sia da operatori pubblici che da operatori privati. Dal dire al fare ci sono di mezzo le regioni, il modello di riferimento è quello in corso di sperimentazione nella regione Lombardia che però è stato già mutuato anche da qualche altra regione ma vedo molte regioni invece resistenti e interessate più a garantire sostegno ad alcuni erogatori piuttosto che a soddisfare il bisogno di lavoro di molti disoccupati, di molti inoccupati. Il concetto di rete corrisponde a una idea di politiche attive unitarie nella dimensione nazionale. Io credo che il cuore di questa rete debba essere il fascicolo elettronico della vita attiva della persona per il quale è giustamente incaricato l'Inps, l'Inps che già dispone di molte delle informazioni che riguardano la vita attiva della persona. Questo fascicolo elettronico rappresenterebbe lo strumento di una sorta di presa in carico della persona perché comprenderebbe il suo percorso educativo, il suo percorso formativo, le sue transizioni e i corrispondenti sussidi che nelle transizioni vengono erogati, il suo conto corrente previdenziale perché noi dobbiamo operare affinché tutti i contributi versati possano essere senza oneri cumulati e quindi il montante contributivo sia la base di calcolo della prestazione previdenziale della persona. Mettendo quindi tutti gli operatori pubblici e privati e le persone stesse nella condizione migliore per poter ricercare un'occupazione, quindi una tecnostruttura nazionale costituita dall'Inps e tanti soggetti in rete fra di loro che utilizzano queste informazioni e operano anche in termini però concorrenziali fra di loro, competitivi fra di loro. Qui la discussione è ancora aperta se i centri pubblici debbano avere o meno una funzione esclusiva. Io sono contrario ad una funzione esclusiva in capo ai centri pubblici, cioè quella sorta di prima presa in carico, di primo bilancio delle competenze. Io penso che tutto debba essere affidato sussidiariamente agli operatori in concorrenza fra di loro, in cooperazione ma in concorrenza anche tra di loro, se vogliamo finalmente determinare un'attenzione adeguata al risultato dell'effettiva inclusione nel mercato del lavoro, soprattutto di coloro che sono nella condizione più svantaggiata. Io non credo che si debba partire dalla spesa, è il solito approccio che io credo sbagliato. Credo che si debba partire da un contesto, come dicevo, competitivo, il cui fine deve essere il bene comune, cioè l'effettivo soccorso alle persone in particolare, insisto, più svantaggiate, che cercano un'occupazione e hanno bisogno di servizi efficienti.